Ancora per pochi giorni da Chateau D'Axe trovi saldi fino al 70% e possibilità di pagare in 36 mesi e interessi a conto zero. E inizia a pagare da gennaio 2016, come per esempio il comodo ed elegante divano Noemi a meno di 17 euro al mese. La cucina, oltre ai prezzi da saldi, aggiungendo solo un euro, hai anche gli elettrodomestici. Il letto Malta con contenitore comodo a meno di 24 euro al mese, sempre a interessi zero e a conto zero. Il divano Pegaso che si trasforma in un comodo letto a meno di 17 euro al mese. Ultimi giorni, ultimi pezzi, questi imperdibili saldi li trovi da Chateau D'Axe.